Ciao, sono Luigi di Clarintux, un tux per sempre. Benvenuti in questo terzo video della serie dedicata ai comandi da terminale. Nei video precedenti abbiamo visto come operare su file e directory. Abbiamo anche visto il piping e la redirezione. Prima di continuare con nuovi comandi, direi di approfondire quanto già visto e accennare alle build cards, ossia dei caratteri speciali che è possibile utilizzare con i comandi. Allora, cominciamo. Ricordate, il comando echo stampa a video un qualcosa, ad esempio ciao. Echo ciao ci ha stampato la parola ciao. La scorsa volta abbiamo utilizzato echo con la redirezione. Abbiamo rediretto l'output di echo con il segno maggiore su un file. Chiamerò adesso il file prova. Cosa contiene il file prova? Ovviamente contiene ciao, ossia l'output che abbiamo rediretto su questo file. Adesso diciamo che voglio continuare a rediriggere un output sul file prova. Al posto di ciao scrivo arrivederci. Arrivederci. E lo redirigo sul file prova. Bene, andiamo a vedere il contenuto del file prova. Come vedete abbiamo arrivederci. Ma non c'è più la parola ciao. Quindi cosa è successo? Il file è stato sovrascritto. Bene, come facciamo se vogliamo conservare il contenuto già esistente e semplicemente aggiungere del nuovo contenuto, appendere del contenuto. Al posto di usare un segno maggiore, ne usiamo due. Vediamo. Ecco, ci vediamo domani. Maggiore, maggiore, prova. Andiamo a vedere il contenuto del file prova. E come vedete abbiamo arrivederci che già avevamo. E la nuova riga ci vediamo domani. Bene, adesso vi faccio vedere che in questa directory ho 100 file txt e 100 file jpg. Vedete? Come faccio ad eliminare tutti i file jpg? Non scriverò ovviamente per ogni file il suo nome. Ci vorrebbe troppo tempo. rm remove il file 1.jpg remove 2.jpg Sarebbe uno spreco di tempo. C'è un modo per eliminarli tutti in una volta? Ovviamente sì. Utilizzando le build cards. Un carattere speciale. Scriveremo. rm asterisco. Asterisco sta per tutto. Per tutti i file. Cioè l'asterisco va a sostituire qualunque carattere. Avevamo scritto 1.jpg Poi 2.jpg Poi 2.jpg Asterisco sta per qualunque carattere. Adesso per non eliminare anche i file txt Andremo a specificare il formato. Asterisco.jpg In questo modo verrà sostituire qualunque carattere.jpg In questo modo verrà sostituito qualunque carattere fino al punto E il file txt e il file prova che avevamo creato. Adesso diciamo che vogliamo spostare tutti i file txt presenti in questa directory ma non il file prova Su una directory test 2. Siamo sulla directory test 1. Mi sposto sul livello superiore con cd punto punto E quindi andiamo con il comando move Se vi ricordate per spostare o rinominare dei file usiamo move mv Quindi mv poi il percorso relativo test 1 Slash asterisco per indicare tutti i file punto txt In percorso relativo della cartella test 2 Quindi cosa è successo? Già lo vedete Se vediamo cosa abbiamo sulla cartella test 1 Abbiamo solamente il file prova Mentre sulla directory test 2 abbiamo tutti i file txt Spostiamoci sulla cartella test 2 dove adesso abbiamo tutti i file txt E proviamo a rinominarli tutti in un colpo Utilizzando però un nuovo comando Sappiamo che per rinominare un file possiamo utilizzare mv move Impariamo adesso il comando rename Quindi scriviamo rename Tra virgolette andiamo a scrivere punto txt Poi andiamo a scrivere punto ad esempio txt in maiuscolo E andiamo a compiere questa operazione su ogni file Quindi abbiamo bisogno dell'asterisco Su ogni file punto txt Andiamo a vedere con ls cosa è successo Il formato è cambiato da txt in minuscolo a txt in maiuscolo A questo punto vedremo per la prima volta il ciclo for A cosa serve un ciclo for ovviamente ad iterare una certa operazione per un determinato numero di volte Scriveremo for Poi possiamo scegliere un qualsiasi simbolo, una qualsiasi parola Io scriverò semplicemente i For i In Asterisco punto txt Quindi per ogni file presente in questa cartella Con estensione txt Do Cioè file Ecco Ciao sono Luigi Poi dobbiamo rediriggere questo output Su Segno del dollaro I Quindi su ogni file I Sta Per ogni iterazione del ciclo Ad un determinato file txt Dollaro I Quindi Per riferirci esattamente a quel file Punta e virgola Don Cioè fatto Facendo in questo modo Vedremo che ogni file Ciao Ciao sono Luigi Abbiamo quindi cento file Identici con il contenuto Ciao sono Luigi Andiamo a riutilizzare questo ciclo for Questa volta per Ad esempio inserire la data Come si fa ad inserire la data? Allora esiste il comando date Vediamo lunedì 26 dicembre 2022 E' l'orario Quindi a questo punto Scriviamo For I In Asterisco punto txt Do Date Ridiriggiamo l'output Su Segno del dollaro I Don Se facciamo così Ovviamente viene cancellato il contenuto precedente Ossia Ciao sono Luigi Se vogliamo Conservare Ciao sono Luigi Andiamo a scrivere Due segni Maggiore Facciamo in questo modo Quindi in ogni file Adesso sarà presente Ciao sono Luigi E' la data Bene Abbiamo già visto un paio di esempi Con il segno dollaro In questo caso il segno dollaro sta a riprendere ogni file indicato con i La scorsa volta invece abbiamo visto che con il segno dollaro è possibile fare qualcosa del genere Ecco Il mio PC Si Chiama Segno dollaro Aperte parentesi Host name Chiudo parentesi Chiudo Virgolette Il mio PC si chiama PC11 Quindi Con segno dollaro E Un comando in parentesi Andiamo ad eseguire un comando all'interno di un altro comando Ad esempio all'interno di echo Bene Cerchiamo di utilizzare il tutto In qualche modo Riutilizziamo il ciclo for Per i In Ogni file Txt Do Ecco Oggi E Segno del dollaro Aperte parentesi Date Date Chiudo parentesi Magari mettiamo due punti Chiudo virgolette Punta e virgola Don Ah scusate Devo anche rediriggere l'output Lo rediriggiamo su Segno del dollaro I Bene Andiamo a vedere cosa contiene ogni file Ciao sono Luigi La data l'avevamo già inserita in questo modo Ma adesso abbiamo anche OGE Due punti E la data Va bene Direi che per questo video può bastare così Un saluto dal vostro Clarintux Ci vediamo prossimamente Ciao Ciao Ciao